Per settimana sport, mister Davide Ferraro, perché chiaramente Dorigo era squalificato, allora, bella vittoria della Spottornese, 4-0 con l'Olimpico, una grande prestazione di collettivo e anche dal punto di vista tattico, una bella vittoria la vostra? Assolutamente sì, una bella vittoria che ha conquistato su un campo molto difficile, perché questo è un campo, sapevamo che i nostri avversari erano un'ottima squadra, con delle ottime individualità, quindi è una vittoria che assume un significato doppio, e soprattutto siamo contenti per aver raggiunto questo risultato anche per il mister, che appunto era purtroppo squalificato, ma ecco, i ragazzi hanno fatto quello che abbiamo chiesto loro in settimana, non possiamo che essere incredibilmente sconfatti per questo. Bene, grazie mister, complimenti per la vittoria e naturalmente buona fortuna anche per il proseguo del campionato. Grazie. Grazie da tutto a settimana sport, grazie mille.